Anche stamattina fa freddino, però c'è un'alba spettacolare. Sto facendo colazione con tutta roba loro. Sul pane ho spalmato una specie di burro di salmone e roba non lo so. Poi c'è questo che non so cosa sia, credo sia agnello, salame di agnello, pesce agrodolce e questa salsina che me la ricordo in Svezia, sempre di salmone o di qualche pesce comunque. Colazione più classica senza usare pane e formaggio salumi e uova sode. Questa è l'Islanda, noi stiamo più o meno da queste parti e andiamo verso Hofno, continuiamo verso est. La strada finisce qui, siamo a Hoffel e da qui dovremo vedere le pendici del ghiacciaio Vatnayokul, se si dice così. Vatnayokul, se si dice così. Grazie! Grazie a tutti. Sono in Islanda, fa veramente freddo e quest'acqua dovrebbe essere calda. Sempre a Offel e ci sono queste vasche di acqua naturale calda. E avete visti tutti quei luoghi? Noi non ci andiamo. Siamo a Stocksnes, questo è il punto più lontano in cui ci siamo diretti in Islanda. Potevamo fare il giro però poi comportava stare troppi ore in macchina nei prossimi giorni, quindi da qui poi torneremo indietro verso Reykjavik. Quindi questo è il punto più a est dove siamo arrivati. Noi non ci andiamo. 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 Noi non ci andiamo.